Sono state messe intanto a disposizione dalle imprenditrici di Confagricoltura Donna le Clementine Benefiche a sostegno appunto dei centri antiviolenza. Si tratta di un'iniziativa nazionale promossa a ridosso della giornata internazionale contro la violenza alle donne in memoria di Fabiana, giovane studentessa di Corigliano Calabro massacrata dall'ex fidanzato in un agrumeto di Sibari e di tutte le altre donne vittime di maltrattamenti. Ce ne parla Alessandra Deracano. Si sente il profumo di queste Clementine che tornano ancora una volta a sostegno delle donne, a sostegno della lotta contro la violenza alle donne. L'iniziativa è di Confagricoltura Donna ad Alessandria, un'iniziativa come abbiamo ribadito che torna negli anni e che torna per ricordare ovviamente un fenomeno che purtroppo registriamo quotidianamente. E che non è soltanto di Confagricoltura Donna, di tutte le donne del mondo. E Confagricoltura sempre vuole essere presente anche in questa occasione perché per noi è importante, siamo donne di campagna, quindi fare qualcosa di concreto. E questo è una cosa concreta che facciamo e finalizziamo a Medea, centro antiviolenza qui di Alessandria. Le Clementine sono un progetto nazionale di Confagricoltura Donna, voluto dalla nostra Presidente regionale Paola Sacco, che è anche qui la Presidente di Alessandria, ma voluto da un insieme di donne. Difatti le Clementine Antiviolenza hanno il sostegno anche del Soroptimist e di altre associazioni al femminile con le quali collaboriamo. Accanto a me il Direttore di Confagricoltura Alessandria, Cristina Bagnasco, dicevamo torniamo a far vedere queste Clementine perché possiamo fisicamente prenotarle, portarle a casa e fare appunto della beneficenza. Sì, è possibile prenotare le Clementine Antiviolenza qui nei nostri uffici di Confagricoltura Alessandria, telefonando allo 0131 43 151 ed è anche possibile sabato in Corso Italia ad Acqui, dalle 10 alle 18, passare e appunto prendere le Clementine con un'offerta che sarà appunto devoluta a Medea, che fa un grande lavoro sul nostro territorio per tutte le donne della provincia e non solo.